Non è semplicemente l'apertura di un nuovo campus, sono scommettere su 5.000 metri quadrati e davvero è anche la realizzazione di qualcosa di estremamente importante. Su Roma l'idea è proprio lanciare uno spazio dove ci saranno più di 300 persone e la cosa bella sarà proprio invece tutte le persone che verranno anche qua a formarsi. Sono Giulia, direttrice Talent Garden Innovation School, con oggi lanciamo la scuola a Roma dopo il grossissimo successo che abbiamo ottenuto in questi 4 anni a Milano. Sono appena arrivata, già mi sembra una bella atmosfera. Molta voglia di fare. Scoprire che c'è chi vuole fare innovazione in un quartiere che è stato totalmente riqualificato, sta pulsando in nuova vita, è una cosa che mi affascina molto. Ho partecipato alla classe di master in digital marketing. Oggi ho partecipato al workshop in UX Design. È un settore in crescita e spero che sarà il lavoro del mio futuro.